Ciao amici di tutti youtube Adesso farò un video per voi Dove mangerò La zuppa Per voi Questa è la zuppa per voi Oh, mica è tutto Questa è la zuppa per voi E' una zuppa molto buona E' la patate Funghi Questa zuppa si può fare anche con la pasta Viene buona anche con la pasta E Taylor fa questo per lei Sì, lo fa Ma include anche se stessa E dice Dovremmo iniziare a mangiare più sano E iniziare a cambiare in questo modo E lei glielo permette con relutanza Perché pensa di renderla felice In quel momento Ma poi si preoccupa per lei Perché sa che quello che fa L'aiuto a ucciderla E questo è l'amore E lei glielo permette con il treno Non abbia una fatta occasione per farcela Tutto questo oggi deve finire Sì Beh, perché il treno Non è da 33 anni E pesa 325 kg Quanto pensa di poterla Molto buona Ecco, mi sento fortunato Che sei ancora di no Ha ragione Perché moltissime persone A questo punto Ce la fanno vivere a lungo Con il suo peso E almeno che non perdano Una buona quantità di peso Non potrà essere Sotto posto all'intervento Di chirurgia variata Perché ora Non potrebbe numerare In alcun modo Alcun tipo di operazione O via le stessi Ok Non c'è modo di farlo Se non riuscendo a perdere il peso Sono su tutto A fare qualsiasi cosa Le darò una pietra All'altro contenuto Di proteine In basso dei carboidrati Il libro è che ho cercato L'oriato Deve leggere Tutto questo Undicio Le darò una lista Di città In Italia Ok Alla cosa si avverrà Alla lettera La cosa La cosa Quello che voglio Che testa 50 kg Nei prossimi due mesi Hai capito? Sì Voglio anche Che inizi ad essere Più attivo Ma ripeto Che ha un grande Ristaggio di infatti Così Questa zuppa Io all'epoca la compravo E poi la usavo Come la sto usando adesso Una volta l'ho usata anche Che mi ricordo Che erano Ai funghi porcini E l'ho usata Sulla pasta L'ho fatto Pasta Con zuppa Con i funghi porcini E come Cosa venuta buona Come Come piatto Uno se per dire Non c'ha voglia Tanto di cucinare Fa un piatto del genere Non lì con due minuti Però In un quarto d'ora Fa una pasta Che non ci sia Che non ci sia nulla Che non vada E che possa rappresentare Una minaccia Anche in livello Dificio via Potrebbe essere Troppo alto Per gestire Del suo organismo Non può andare avanti Così Ho paura degli altri Non ha altra scelta Che deve prendere La cosa Molto sui sedi Perché adesso Faccio un altro piatto E se inizia a prendere Delicato a voi E quindi Molto buono Molto accaldato E questa Questa zuppa Come minimo Domani per mezzo Giorno l'una Me la farò Perché il suo tempo Sta fresca di Buongiorno Salve Mi chiederebbe La insandra Sì Ok Ho paura degli aghi Quindi Te la dà Buongiorno Non si preoccupi Mi fido di lei Mi dispiace Di essere così Del cosa No va bene Non ti preoccupi Lo leggo Bello stretto Ok Oh signore Ma un bel respiro Non guardare Non è ancora Spenuto Quindi Come si sente Sta bene Non sono sicuro Ci sono dei bicchieri In quel cassetto Giuntassi Molto buono Mi sembra Di non riuscire A respirare Una boccata Bene Sì Signore Non ce la faccio Non ci riesco Vuoi un po' d'acqua? Mi serve aiuto Mi sento male Mi serve aiuto Che cos'hai? Che ti serve? Non riesco a respirare Dico Sono serio Ti prego Aiutami Potrebbe essere Uno d'acqua di mano Amore Per favore Aiuti Mi sento E' un bel respiro Spira col naso Un bel respiro Più piccolo Se necessario Respire E' un bel respiro respiri e respiri respiri e respiri ok ecco fatto grazie e quindi il mio bagno lo farò come secondo questo è il mio animale preferito faccio un gatto che è mio figlio vero vai e se ci facciamo i video insieme è passato un mese dal mio appuntamento con il dottor Mosada tutto il viaggio fino a lì è stato davvero duro per me ritornare è stato ancora di più perché ero già distrutto fisicamente e emotivamente non ce l'ho fatto e ho iniziato immediatamente con la dieta e con gli esercizi che il dottore mi ha dato e adesso la prima cosa che faccio appena sveglio è prepararmi e fare i miei esercizi mi impongo di alzarmi presto la mattina così posso iniziare subito poi li faccio subito dopo prima di andare a letto ho promesso a me stesso che se lo devo fare lo farò bene perché facendo il mio dovere e sottoponendomi all'intervento tutti i miei sogni per la mia vita in quella container saranno di nuovo possibili quindi niente scuse a voi blocchi sono convinto al 100% di volerlo fare io sono convinto al 100% di volerlo ciao ciao sto tenendo un confo di ogni caloria che mi piace a un diaio alimentare il tailor è sempre vicino a me ti aiuta a preparare i pasti salutari e in questo momento il suo sostegno significa molto non ci aggiungi nient'altro? solo quello? si prendo il tuo formante è troppo non è male non è quello che mangi vestivo normalmente allora prenderei di certo scusa ma questa è una cosa negativa della dieta è piuttosto dura sono contenta che stia facendo anche tu si ti serve assolutamente cosa fanno? casino? cosa cazzo? loro mh? 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 sui due piene di dove erano? guarda strano di culo devi metterle no, vedo giocampiate è finito bene ragazzi che dire il video finisce qua è stata un'esperienza bellissima di questo io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial ciao mettete un like se vi è piaciuto il video commentatelo come sempre mettete un like come sempre dobbiamo raggiungere non dico 100.000 like quello no però come minimo un 20 like e fare un altro tutorial poi vabbè se non vengono aggiunti pazienza fa niente farò altri video lo stesso ciao ragazzi alla prossima grazie di tutto ciao ciao